Dio ha detto una volta, non uccidere, non può uomo, qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Però questo popolo, popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita, nel nome di questo Cristo, crucifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Grazie. 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 Grazie.